Il Signore sia con voi, vi benedichi e vi accompagni di ogni potente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Carissimo Don Massimo, ci sono delle sorprese. Ci sono delle sorprese, sì. Un perito grario qua fra di noi, aiuto. Siamo dell'Associazione Ex Allievi Scarabelli, stiamo facendo una galleria di personaggi scarabelliani, cioè di coloro i quali sono usciti dall'azienda. La galleria dei casi. La galleria dei casi, no, no, questi sono casi importanti, noi siamo andati a scegliere i personaggi più indicativi, più coloriti, ecco nel tuo caso io userei questo termine. Era un bel substrato lo Scarabelli, spero che lo sia ancora, conosco diversi ragazzi che ci sono ancora adesso. Buone speranze, la campagna ti dà una regolata nella vita che anche a me l'ha data tantissimo. Siamo una grande associazione Don Massimo, come tu sai, e vogliamo appunto costruire, quest'anno c'è il raduno, vogliamo costruire una galleria di personaggi scarabelliani. Tu sei un personaggio scarabelliano, noi ti abbiamo qualificato come tale, ti abbiamo individuato come tale, perché ti conosciamo, sei un carissimo amico di tutti noi. Allora io ti voglio chiedere un po', la tua vocazione ha avuto qualche influenza? È stata, diciamo così, guidata anche sulla base degli studi che hai fatto allo Scarabelli? Beh, diciamo che io ho avuto sempre una specie di amore così per la campagna, la mia famiglia aveva origini contadine, anche se io nacque figlio di commercianti negli anni 60, poverissimi, che insomma c'era, però c'era questo boom economico, quindi il negozio di famiglia andava molto bene, cominciava ad andare bene. Però ecco, quest'amore alla campagna l'ho sempre avuto, anche nei racconti dei miei nonni la campagna mi entusiasmava, convinsi i miei genitori addirittura a comprare un poderino, quando intrapresi l'agraria nel rio di Mescola, che ci voleva la funivia andare su con degli albicocchi arrampicati là sui calanchi così e così. Ammetto, fratelli, che io sono sempre stato un contadino molto della domenica, come dicono in Romagna, un contadino della domenica, per cui la campagna, da un lato l'ho amata, però ho sempre anche sperimentato un po' la mia inconcludenza effettiva. Però il buon Dio nello Scarabelli secondo me mi ha proprio forgiato bene, perché ricordo con tanto affetto la scuola e anche per dire, come cristiano, noi tutte le mattine, un gruppetto, prima delle lezioni, andavamo vicino alla presidenza del corridoio, vicino allo studio del buon Mario Vivarelli e dicevano la preghiera, leggevamo un po' di Vangeli, poi dopo andavamo a scuola. Quindi c'era una carburazione anche cristiana molto bella nell'istituto. Chi era il vostro sacerdote? Era Don Natale Tomba, giovanissima, appena prete, appena sfornata, pieno di entusiasmo, molto bello. Dimmi una cosa, adesso tu come sacerdote, come parroco, hai delle parrocchie però di campagna. Allora, diciamo che l'entità più importante come assorbenza del mio lavoro è questa qui, la Fondazione Santa Caterina di Imola, che quest'anno facciamo proprio 100 anni e abbiamo assistito a una cosa come almeno 3.000 ragazzi in difficoltà in questi 100 anni, così proprio per periodi anche lunghi. E qui insomma vivo l'impegno proprio nella trincea, perché proviamo di rispondere ad ogni tipo di disagio giovanile. Perché una volta c'erano solo i maschietti, adesso abbiamo anche le ragazze, quindi c'è proprio un'interazione molto grande. Vedo che la città si sta riaffezionando. Mi sono arrivato che non c'era neanche un cristiano dieci anni fa e pochissimi italiani. Adesso abbiamo di nuovo riconquistato la città pur continuando a dar la mano anche a chi non è italiano. Quindi una cosa molto bella, un fermento giovanile nuovo. Poi il buon Dio mi ha chiamato anche ad aiutare due parrocchie rurali, che sono a cavallo dell'autostrada, che sono Caso Lacanina e Ortodonico. Sono parrocchine piccoline, millenarie, in cui c'è una buona tradizione cristiana, una bellezza anche di famiglie stabili nel territorio. Abbiamo diverse famiglie che da oltre 100 anni coltivano lo stesso podere, ancora nella loro casa. Quindi anche con la famiglia stabile, con i vecchi in casa, i bambini che sono ancora lì e crescono così, c'è un ambiente veramente buono. La nostra campagna ha dei germoglietti molto interessanti. Don Massimo, siamo usciti di chiesa. Adesso siamo qui nella zona della fondazione Santa Caterina ed è la realtà nella quale tu operi quotidianamente. Quindi ti dici un po' come opera questo sacerdote ex allievo dello Scarabelli. Intanto stiamo costeggiando questo edificio, che è vincolato alla sovrintendenza e fu l'officina in cui gli orfanelli accolti in questa struttura imparavano a lavorare. Quindi una scuola di vita anche nel lavoro. Don Bugetti quando li fondò 100 anni fa non pensava certo a questo. All'inizio accolse semplicemente degli orfani perché era scoppiata la prima guerra mondiale e non sapeva come fare aiutare questi ragazzini. E poi man mano che questi furono accolti e crebbero si pensò veramente anche di avviarli al lavoro con questa officina qui. Adesso l'abbiamo restaurata e di giorno in parte accoglie delle persone svantaggiate o che hanno un handicap tipo The Hospital. E al pomeriggio accoglie i ragazzini dell'oratorio dopo scuola che hanno bisogno di tanti spazi. In questo momento c'è un grande silenzio perché stanno studiando, ma alle 4 e mezza c'è il merendone e cambierà tutta la fisionomia di questo silenzio. Mentre questa costruzione che vediamo qui sono gli appartamentini, sempre per le persone che hanno un handicap. E si chiama Dopo di Noi perché è indirizzata particolarmente ai genitori che dicono quando io morirò, il mio figliolo o la mia figliola che ha un handicap, a chi potrà fare riferimento? Allora noi cerchiamo di rispondere a questa provocazione molto grande, veramente ci fa un po' tremare ma con l'aiuto del buon Dio ce la faremo. È una tua idea questa? È stata una tua idea? No, è la provvidenza che la venne incontro al pass 3. Noi siamo qui sulla piazza e poi dopo vediamo... Lo spirito che anima chi è a contatto della natura, con la campagna, secondo me veramente apre la mente anche questo tipo di disponibilità ad essere vicini alle difficoltà, ai problemi di chi... Perché la campagna ti obbliga ad aver contatto con la realtà. Massimo, prima hai detto una cosa quando eravamo in chiesa che mi è piaciuta tantissimo, cioè quando sei nelle due parocchie piccoline di campagna, cosa hai detto? Si apre la porta? Quando comincia la buona stagione che sono finiti i geli invernali, è bellissimo la campagna perché celebriamo con la porta spalancata e allora momento per momento ti godi la bellezza della campagna, quindi gli alberi in fiore o i frutti maturi sugli alberi io ho il tempo della vendita, ma proprio te lo gusti perché sei spalancato lì e anche il prete non deve farla tanto lunga perché la fa il buon Dio la predica con la bellezza della natura. Bravissimo, bello, bello questo che si dice. Direi che possiamo chiudere qui l'intervista a Don Massimo. Don Massimo, ex allievo, quello che ha fatto da grande, credo che sia veramente grande. Grazie ragazzi, a voi, ottimo. Grazie a tutti.